Li Fit Fit Your Macros è una cagata pazzesca, ho fatto un video un po' di anni fa che iniziavo così, è un video di un'ora dove parlo di Li Fit Fit Your Macros e vado molto nel profondo vedendo tutte le varie cose, facendo diversi esempi eccetera rimando a quel video se vuoi passare un'ora così divertente, ma oggi sto molto sul Repetita Juvent quindi cerchiamo di parlare, capire e analizzare questo discorso di Li Fit Fit Your Macros però prima di tutto ricordati di iscriverti al canale, cliccare sulla campanella per non perderti nessun video iscriviti, per te veramente non costa niente, è un click, a noi dai veramente una grande mano Allora, Li Fit Fit Your Macros, andiamo, generalmente ovviamente di per sé non è che una cagata pazzesca Li Fit Fit Your Macros è un approccio in cui si cerca di trovare un compromesso per le persone che hanno o difficoltà a seguire un'alimentazione hanno bisogno di una maggiore compliance, magari sono sature, sono anche scoraggiate, stanno all'inizio vogliono anche avere un po' di libertà eccetera eccetera però il discorso qual è? Che purtroppo quello che è veramente una cagata è il messaggio di fondo che viene mandato cioè il punto della situazione e il concetto del tanto rientra nei tuoi macros analizzeremo in questo video due profili principali, anzi tre profili principali il primo profilo è il discorso relativo all'effettivo utilizzo del nutritional values quindi l'etichetta nutrizionale, i valori nutrizionali dei diversi alimenti, diversi cibi il secondo profilo è quello relativo all'importanza dei macros o di qualcosa di più, punto di domanda e il terzo profilo è quello dell'induzione a quello che è un disturbo alimentare quindi voglio partire dal terzo motivo, il problema di base secondo me delle Fit Fit Your Macros il problema è che realmente quando noi vediamo le cose in teoria, stratti, messaggi hanno sicuramente un certo peso, hanno sicuramente un certo merito come ho detto qua nel video ovviamente le Fit Fit Your Macros ha un campo di applicazione che ha del meritevole il problema è quando poi vengono utilizzati nella pratica cioè come faccio effettivamente a convincere le persone a fare questi Fit Fit Your Macros perché ne faccio il mio brand in qualche modo il problema è che l'unico modo per far leva su qualcosa è quello di far leva proprio su questa presenza del junk food perché tanto alla fine se ti tratti i macros va bene, puoi mangiare quello che vuoi questo è il succo del discorso e il messaggio è molto pericoloso, un messaggio di induzione a comportamenti alimentari che sono profondamente sbagliati e che poi sfociano in quello che è un disturbo magari atipico del comportamento alimentare, cioè il fatto che una persona magari durante la sua giornata si deve mangiare necessariamente qualcosa che è tracciato, quindi che abbia delle etichette nutrizionali quindi la carne la devo prendere confezionata perché ci sono etichette nutrizionali e non dal macellaio perché là non ci sono oppure le persone che poi mangiano prevalentemente tutto junk quindi tutto cibo spazzatura, tutto cibo processato perché tanto rientra nei miei macros molti contenuti che all'atto pratico si vedono sono persone che di fatto bingiano quindi vanno, iniziano a mangiare di tutto e di più ostentano il fatto che loro possono mangiare cibo spazzatura perché tanto lo tracciano e quindi hanno una bella fisicità che ok, va bene quello che ti pare ma l'alimentazione non è correlata, tesoro bello, alla fisicità l'alimentazione è correlata in primis alla salute quindi logicamente quando si fa una divulgazione di massa su quella che è l'alimentazione sicuramente si può andare a rosicchiare qualcosina per quello che riguarda lo sport, il bodybuilding eccetera però si dovrebbe anche avere sempre un occhio per quella che è la salute e non dire semplicemente, eh vabbè, i fit fit or macros io me lo permetto, guarda quanta merda mangio e riesco a mangiare e comunque stare in forma perché poi il senso è quello sicuramente non c'è nessuno che si mette guarda quanta merda mangio da dieci anni e guarda le mie analisi del sangue che sono perfette ok, quindi questa è una cosa molto molto importante per cui l'ultimo punto è che questi fit fit or macros all'atto pratico e non in maniera generalista ma nella maggior parte, ahimè, dei casi quando si tratta di voler forzare un qualcosa da un punto di vista, meno male, di marketing, di business eccetera porta a un messaggio molto pericoloso che incentiva le persone ad avere degli atteggiamenti dei disturbi del comportamento alimentare per quanto atipici comunque di fatto un rapporto negativo un rapporto cattivo con l'alimentazione perché mangiare tutto junk food, tutto precessato non è un buon rapporto, un rapporto sano con l'alimentazione quindi questo è l'ultimo punto ce lo scartiamo via, che è un punto di vista bene o male, da quello che io personalmente ho visto dalla mia esperienza, poi ci sono mille persone che ovviamente adesso saranno adirate no, perché io mangio junk, però sto bene no, perché di qua, no, perché di là e sono le persone per me più pericolose quelle che si inquietano quando guardano questo tipo di contenuti contro gli fit fit or macros perché appena li metti in crisi quello che è un qualcosa a cui sono saldi la loro gabbia dorata vanno in crisi e se vai in crisi te sarò bello non è un bel rapporto con questo tipo di cose se dovresti vivere comunque una certa serenità dicendo, sì vabbè, ma per me funziona, eccetera invece, no, sia mai che ti tocco il tuo oreo i tuoi gerati magnum, eccetera, eccetera e questo, di nuovo, è molto molto pericoloso la direttura di contenuti in cui si stenta di mangiare il gelato confezionato tutti i giorni vedo che cosa è successo non è successo niente che bello e la prima cosa che viene in mente logicamente è porca vacca cioè il tuo modello di libertà alimentare è mangiarti un gelato confezionato posso capire se siamo in Inghilterra se siamo in un paese che non ha cultura alimentare però siamo anche in Italia quindi capite come tutto questo è veramente molto molto triste è un messaggio che è fondamentalmente sbagliato di tanti programmi che ci possono essere sulla ricina sulla cucina sul gusto cioè se proprio vogliamo ostentare la libertà alimentare in Italia allora ci facciamo un bel giro non lo so a Napoli a Caserta ci prendiamo le mozzarella io qua ho cravings non ho queste cose in Inghilterra la mozzarella non sa di niente i pomodori non sa di niente quindi per me la libertà alimentare è personalmente alta sicuramente non il gelatino confezionato comunque al di là di questo il discorso il secondo discorso quindi ci scartiamo ci smarchiamo questo primo punto il secondo punto è il punto relativo a cosa all'effettiva combaciare di queste etichette nutrizionali cioè la validità di queste etichette nutrizionali perché? perché logicamente tutto questo discorso dell'Efit, Fit Your Macros si basa sull'utilizzo delle etichette nutrizionali dove la cosa pericolosa è che le persone all'atto pratico arrivano proprio a non mangiare niente che non abbia delle etichette nutrizionali perché non può essere tracciato e questo di nuovo è un atteggiamento molto molto pericoloso al di là del fatto che logicamente tutto quello che ha delle etichette nella maggior parte dei casi sono cose processate ma anche là come vengono fatte le etichette nutrizionali? beh le etichette nutrizionali logicamente vengono stabilite in linea governativa cioè da governi dai ministeri eccetera ora quello che deve essere capito è che ci sono due interessi in gioco quando si stabiliscono quelle che sono le legislazioni relative alle etichette nutrizionali il primo interesse in gioco è quello del consumatore cioè il consumatore deve avere di base un'informazione quanto più veritiera possibile sull'alimento che sta mangiando giustamente cioè ti metto le etichette perché tu devi sapere che cosa c'è all'interno cosa stai mangiando quali sono i valori nutrizionali i carbo, grassi eccetera questo è sicuramente un interesse ma è controbilanciato da un altro interesse ossia il produttore deve essere messo nella condizione di poter mettere con quanta più serenità possibile queste etichette nutrizionali serenità che vuol dire non scrivendo quello che gli pare da un punto di vista commerciale ma non posso creare un processo troppo dispendioso troppo importante per il mio produttore cioè vale a dire se al produttore gli dico guarda per farmi questa merendina tu devi prendere tutto il tuo lotto ogni volta di mele che ti arrivano e devi testare i valori nutrizionali di tutte le mele poi devi prendere il lotto di farine che ti arrivano e devi testare anche quelle devi prendere il lotto di uova devi testare anche quelle ciascuni ingredienti devi testarlo e devi testarlo ogni tot e se cambi fornitore anche in quel caso devi andare a fare degli altri test capite bene che un qualcosa del genere riderebbe impossibile la messa in commercio di qualsiasi alimento quindi sono due interessi in gioco io sì voglio dare delle informazioni veritiere ma dall'altra parte devo mettere il produttore nelle condizioni di poter fare produzione con tranquillità dove si trova quindi questo bilanciamento delicato nel fatto che di base il consumatore non ha interesse ad avere dei valori super precisi perché che cazzo interesse c'è ad avere dei valori super precisi ok non c'è realmente un senso il legislatore logicamente non pensa alla persona che deve careggiare eccetera ma la popolazione è normale quindi bene o male accetto un margine di errore ok quindi accetto un margine di errore ci può stare il margine di errore se andiamo a vedere la disciplina quindi normativa all'atto pratico quello che viene richiesto effettivamente al produttore è l'inserimento di valori nutrizionali ottenuti con praticamente qualsiasi processo logico con delle tabelle che non devono neanche essere delle tabelle ministeriali o governative e con un margine di errore che è anche abbastanza importante in alcuni casi arriva pure al 20% per esempio di grassi eccetera quindi logicamente queste etichette nutrizionali non sono realmente affidabili ora non che i produttori nessuno vuole dire questo vada a cambiarli a loro gioco ma semplicemente quelli magari si fanno una semplice ricerca degli valori nutrizionali di tutti gli ingredienti se fanno due calcoli ad occhio e buttano dei numeri approssimativi ok questo è quello che avviene non vanno a testare quindi nel video che ho fatto di un'ora sono andato ad analizzare dei margini di errore e potete avere dei delta proprio di calorie molto importanti cioè mangiando una porzione di qualcosa potete avere anche una variazione di 10 grammi di grassi a fine giornata potreste avere una variazione veramente di un 20% di grassi in su o in giù di un 20-30% di carboidrati eccetera eccetera quindi variazioni che sono logicamente importanti quindi le stesse etichette nutrizionali già di per sé non sono minimamente affidabili sono degli indici che possiamo avere per capire normalmente che cosa c'è all'interno però c'è di più logicamente nel momento in cui io mangio un qualcosa questo qualcosa non è che lo assorbo di default ma subisce dei processi di assorbimento e l'assorbimento può essere più o meno efficiente se mangio dello zucchero puro è un discorso se mangio dello zucchero in un caffè è un altro se mangio dello zucchero in una torta con la nutella è un altro ancora se mangio dello zucchero con della frutta è pieno di fibra eccetera è un altro ancora quindi ci sono dei rate di assorbimento diversi ancora la cottura se mangio delle patate al forno piuttosto che bollite con la buccia senza buccia con un piatto completo o le lascio raffreddare le mangio mezzo fredde eccetera la banana può essere matura meno matura tutte queste cose impattano profondamente su quella che è l'effettiva assimilazione di quelli che sono i nutrienti dell'alimento e ancora di più il mio status metabolico la microflora intestinale il mio status grassro intestinale impatta sulla digestione ancora di più il destino metabolico degli alimenti è diverso in funzione del contesto in cui viene inserito quindi un alimento che io vado a mangiare nel post-workout o nell'intra-workout avrà un destino metabolico ben diverso da un alimento che mangio in una situazione tranquilla un alimento che mangio in un regime di ipocalorica con BF bassa e riserve di glicogeno tendenzialmente depletate avrà un destino metabolico molto diverso di un alimento che vado a mangiare in una condizione di surplus e di resistenza insulinica o principio di resistenza insulinica quindi capite bene che calcolare dei numeretti come se dovessero essere là no non c'ha senso come discorso che di nuovo non vuol dire che non siano utili perché per una persona che si approccia questo è il campo di applicazione di Fitbit or Macros che deve semplicemente un po' dimagrire e deve bene o male tenere traccia di quello che mangia gli si può dare questa impostazione e va sicuramente bene ma una persona che deve fare gare o che deve fare bodybuilding o che sta facendo questo percorso ricercando precisione sicuramente andando a mangiare schifezze varie o quello che cazzo ti vuoi mangiare nella giornata quando ti svegli ma semplicemente per il fatto vabbè lo traccio rientra e i numeri sono quelli non hai capito un cazzo cioè magari va bene però non hai capito un cazzo cioè ti stai creando un'illusione che è fittizia totalmente fittizia quindi stai a perdere tempo cioè tanto vale che fai intuitive che bene o male ti assesti però è totalmente illusoria come cosa poi legge i grandi numeri pian piano tutto sappiano però è tutto così frivolo frivolo quindi fanno un po' tenerezza queste persone che vanno là a calcolare magari di carbo ne mangiano quei 5 grammi in più o dei 5 grammi in meno perché devono matchare quel numero preciso o cercano di stare più vicino quando magari stanno a 30 grammi di carbo in più già di default fanno proprio tenerezza quindi su questo c'è una scarsa informazione e in ultimo l'ultimo punto è il discorso dell'effettivo diciamo questo statement if it fit your macros quanto è realmente vero no non è vero cioè non è vero che l'importante è che rientri nei tuoi macros per cosa di cosa stiamo parlando sicuramente se pensiamo a fare un attimo una piccola dieta eccetera allora sicuramente va bene i macros sono quelli che meno male dettano quello che è il risultato non per salire su un palco magari se devi salire in un palco a fare la bikini una federazione migliore ma per carità cioè lo vinci pure se c'è una bella genetica però se devi fare una dieta così per dimagrire sì questo è vero però laddove andiamo a vedere quella che è la salute in generale delle persone ora non c'è tanto un discorso di cibi buoni cibi cattivi eccetera però c'è il fatto che ci sono alcuni elementi che hanno degli impatti molto differenti cioè parliamo di grassi tutti i grassi sono uguali assolutamente no ci sono dei grassi che hanno un impatto molto negativo su quello che è il profilo lipidico-matico e degli acidi grassi che hanno dell'impatto positivo gli omega 9 hanno un impatto molto benefico per la salute cardiovascolare gli omega 6 hanno un impatto pro-infiammatorio gli omega 3 un impatto anti-infiammatorio eccetera gli omega 6 hanno un impatto anche importante di boost del sistema immunitario mentre gli omega 3 hanno un impatto sul immunodepressivo eccetera eccetera quindi sono tutte cose che sono altamente importanti cioè l'acido grasso di per sé ha un impatto molto diverso nel nostro corpo che non è un impatto da poco perché poi tutte queste cose non è che te ne accorgi all'oggi e domani ma quando si vanno a fare degli studi epidemiologici si va a vedere che per esempio le malattie neurodegenerative sono associate a un largo consumo di omega 6 ora sono sempre studi epidemiologici però c'è un qualcosa che va ad impattare che non vuol dire che se ti mangi tanta frutta secca allora domani ti viene l'alzheimer per carità del cielo però sicuramente ci sono delle correlazioni ancora i saccaridi il fruttosio ha un pathway di assorbimento che è molto diverso dal glucosio salta la fosfo frutto di nasi 2 che è un enzima regolatoria della glicolisi quindi ha una via metabolica per il grasso molto più breve quindi se tu mangi sempre schifezze salviamo la frutta logicamente perché non le mangi tanto ma schifezze che hanno sempre il fruttosio dentro oppure che hanno degli sciroppi di fruttosio che alla fine sempre il fruttosio è questo e quest'altro allora tendenzialmente ingrasserai di più rispetto all'utilizzare il glucosio e i suoi polimeri parliamo di amminoacidi parliamo di proteine logicamente gli amminoacidi sappiamo non sono tutti uguali quindi se ti mangi del collagene per esempio puro gelatine le proteine delle gelatine o le proteine che hanno dei pool amminocidici incompleti molto spesso in industria si utilizzano le proteine della soglia perché sono piuttosto economiche e quindi in questo caso c'è uno dei pool amminocidici che non sono grandiosi che non sono completi questo è molto diverso da altre fonti quindi capite bene che dire i fit fitro macros è dire tutto e dire nulla ora a questo ci aggiungiamo i micro elementi abbiamo più dell'80% della popolazione delle carenze marginali di micro elementi vuol dire che più dell'80% delle persone già non mangiano abbastanza di qualcosa per carità sono carenze marginali però impattano su tutto quello che è il profilo dei mousse quindi dei sintomi vaghi e specifici e quindi stanno là ancora di più ci sono dei fitocomposti che non sono nutrienti in senso proprio ma hanno un impatto e sono correlati in senso benefico a tantissimi tantissimi benefici quindi benefici anche antitumorali benefici del benessere generale e sono cose che sicuramente non vai a trovare nella tua merendina del cazzo o in junk food in generale ma che vai a trovare in alcuni elementi piuttosto che altri quindi se hai bisogno di qualcosa puoi trovarlo in alcuni elementi per cui tutte queste cose sono fondamentalmente importanti per capire che non è vero che l'importante che rientri in tuoi macros cioè il leaflet fito macros ha un campo di applicazione che è molto piccolo ma non deve essere assolutamente visto come status come statement generale o come regola di vita vederlo come regola di vita è semplicemente ignoranza perché questo è l'alimentazione e la scienza della nutrizione ha tanti pareri discordi da parte dei ricercatori da parte delle cose in realtà ci sono pochi capisaldi che noi conosciamo non tanto pochi però ci sono ma ce n'è uno che nessuno tocca che è il fatto che esistono cose che fanno bene e cose che fanno male poi ovviamente è sempre la quantità non c'è niente che fa male in alcuna dose in qualsiasi dose eccetera è sempre un discorso di quantità però ci sono cose che hanno un impatto positivo e cose che hanno un impatto tendenzialmente negativo quindi dobbiamo essere accorti a cercare di riuscire non a eliminare il junk food non a non fare i titoli macros ma riuscire a trarre beneficio da quella che è un'alimentazione varia sana equilibrata che deve essere appagante finché non riusciamo non riuscite ad avere una alimentazione varia sana ed equilibrata che sia appagante che non vi faccia venire cravings o voglio e cose avete un cazzo di problema che dovete risolvere questa è la verità e sicuramente andare a tamponare con junk food che sia anche al 20% è semplicemente metterci un cerotto ma non è risolvere il problema ragazzi ho la stessa domanda qua sotto sarò ben lieto di rispondere noi ci vediamo al prossimo video